Sono Lorena Galeotti, insegnante di lingua e letteratura francese. Vi fornerò alcune utili informazioni sul corso. Il nostro biennio di lingua francese prevede tre ore settimanali, di cui una con madrelingua, la professoressa Maffaise Christel, che insieme a me prepara alle certificazioni DELF. Alla fine del biennio, infatti, il livello che avrete raggiunto sarà un B1, riferendoci al quadro europeo, mentre un livello B2 lo raggiungerete alla fine del quarto quinto anno. Ovviamente per le eccellenze si raggiungerà un livello C1. Il segreto del nostro successo sta nel cercare di creare un vero e proprio spirito di gruppo. Diamo infatti molta importanza al rapporto umano e anche al lavoro di squadra. Ci piace creare quello che viene detto senso di appartenenza. Nel biennio consolideremo la lingua adottando metodologie innovative e stimolanti, in cui l'insegnante sarà il regista e porrà proprio l'allievo al centro della scena. Questa metodologia si chiama perspettiva azionale e ha come obiettivo lavorare su materiale autentico per apprendere la lingua viva. Nel triennio affronteremo poi la letteratura attraverso l'apprendimento dell'analisi dei testi, al fine proprio di creare in voi una vera coscienza critica, quindi una competenza in materia che nel concreto porterà ad ottenere il doppio diploma francese-italiano. Il nostro corso infatti è ESABAC, ossia a partire dal terzo anno affronterete ben sei ore di francese settimanali, di cui quattro di letteratura e ovviamente anche lingua e due di storia in francese. Prima di salutarvi vi lascio in compagnia di Sara, ex allieva del nostro corso. Ciao a tutti, sono Sara, un'ex studentessa del liceo linguistico. Il francese è da sempre la mia passione, lo studio tuttora e vorrei diventasse il mio lavoro. È il mio stile di vita, la mia scelta del cuore. L'esperienza al liceo di Costato è stata altremodo positiva. Da francesista sfegatata porto nel cuore e nella mente i miei cinque anni di francese, tra fatica e soddisfazioni, coronati grazie a ESABAC da un doppio diploma. Al liceo ho trovato una costante motivazione per portare avanti con coraggio e determinazione la mia passione e per dare a questa una forma concreta e solida. Il francese è per me l'occasione di scoprire non solo una lingua affascinante ed elegante, ma anche una cultura e una tradizione dalla forte identità. È una lingua mai scontata che insegna il valore della fatica e della dedizione, ma è una lingua che appaga senza dubbio. Qualsiasi sarà la vostra scelta, spero sarà una scelta di cuore e una scelta felice. Bonsoir a tutti, buona scelta a tutti!